Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24, la cronaca lucana in apertura, ritenuto colpevole dell'omicidio del barista Mario Marchetta, ucciso per motivi banali. A 35 anni, il 2 ottobre del 2022 a Grassano, in provincia di Matera, Gabriele Acquafreda di 22 è stato condannato a 26 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Potenza, che ne ha disposto la libertà vigilata per tre anni. Marchetta fu colpito da diverse coltellate all'interno del suo locale. Il giovane, difeso dall'avvocato Vincenzo Rago, è stato inoltre dichiarato legalmente interdetto per tutta la durata della pena e in perpetuo dai pubblici uffici. Disposta per la parte civile, rappresentata dall'avvocato Francesco Viti, una provvisionale di 100.000 euro. Indagini e accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri e del nucleo investigativo dei vigili del fuoco per accertare le cause dell'incendio che ieri a Rotondella, in provincia di Matera, ha distrutto un'abitazione del centro storico all'interno del quale è stato ritrovato il cadavere carbonizzato della proprietaria Maurizia Aloisio, di 60 anni. Secondo quanto ricostruito, la donna che era vedova abitava da sola nell'abitazione su due piani in via Cavour. L'incendio ha provocato il crollo del tetto e della facciata. Vasto incendio anche a Montalbano Ionico, a ridosso del centro abitato, distrutti diversi ettari di terreno, come vedete dalle immagini, in fiamme anche un'auto. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Si attende anche l'intervento di un canadere in ausilio delle squadre a terra. E ora la politica, ma anche le cronache urbane, con il neosindaco di Bari, Leccese, in visita sulla spiaggia di pane e pomodoro. Furti, presenza di ratti, problemi di sicurezza. Nelle ultime settimane la spiaggia di pane e pomodoro a Bari è stata spesso protagonista in negativo, al punto che in alcuni bed and breakfast della città i turisti sono stati messi in guardia. Il nuovo corso dell'area comunale sta però per cominciare. Il sindaco, Vito Leccese, ha effettuato un sopralluogo garantendo l'immediata messa in sicurezza della spiaggia, a partire dal bar, chiuso ormai da anni, e in procinto di essere ricostruito nell'ambito del progetto Costa Sud. I lavori di messa in sicurezza, che si concluderanno entro la fine della settimana, consistono nella rimozione delle parti metalliche e delle sporgenze, che potrebbero rappresentare un pericolo. Successivamente l'edificio sarà ricoperto da pannelli, che potranno essere oggetto di interventi di street art, con l'obiettivo di abbellire quello spazio in attesa della prevista riqualificazione. Mettiamo in sicurezza l'attuale rudere del vecchio kiosco e sistemeremo degli armadietti portavalori, in modo da consentire ai turisti, agli avventori di questa spiaggia, di depositare i propri effetti personali. Proprio a causa dei continui furti e danni di cittadini e bagnanti, Leccese ha chiesto alla polizia locale di aumentare i controlli, anche attraverso l'impiego di agenti in borghese. Negli ultimi giorni la polizia locale ha raddoppiato il presidio, tutto d'arresto anche con delle unità della polizia locale in borghese, che sono sulla spiaggia, cercheremo in qualche modo di evitare questi atti predatori, che sono disdicevoli due volte, il primo nei confronti di chi riceve il furto, il secondo nei confronti della città, perché è un danno all'immagine della città. Ma da soli i vigili non bastano, per questo è preziosissima la presenza del Comitato Cittadino Pane e Pomodoro, che garantisce un presidio civico costante. L'ex sindaco di Bari De Caro è a Strasburgo, dove oggi viene proclamato europarlamentare. Ammette di sentirsi spaventato, ma anche di voler studiare di più, ascoltare di più, imparare di più. Comincia ufficialmente la nuova avventura di Antonio De Caro come eurodeputato. Dopo dieci anni da sindaco di Bari e l'addio a Palazzo di Città a San Cito lo scorso 9 luglio, con la consegna della fascia tricolore al neoprimo cittadino vitoleccese, De Caro è arrivato a Strasburgo, dove è in programma la proclamazione del nuovo Parlamento europeo. Lui, forte dell'oltre mezzo milione di voti raccolti nella circoscrizione meridionale nella lista del PD, è pronto a lavorare nel gruppo dei socialisti e democratici. È stato lo stesso sindaco di Bari, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ad annunciare l'inizio ufficiale del suo mandato. De Caro promette massimo impegno nel nuovo ruolo, chiarendo di voler rappresentare la nostra storia, ma anche il nostro futuro, di voler raccontare all'Europa cosa significa lavorare al Sud, vivere al Sud, avviare un'impresa al Sud, ma anche di voler evidenziare alcune criticità come quella di curarsi al Sud, lottando per veder riconosciuti i diritti dei cittadini meridionali. De Caro, noto per il suo perfezionismo e impegno istituzionale, spiega anche di avere in valigia dossier aperti che meritano risposte. Insomma, dopo le inevitabili lacrime per un addio sofferto quanto inevitabile, Antonio De Caro riparte dall'Europa per essere ancora una volta vicino ai suoi cittadini. Col diretti Puglia lancia l'allarme obesità. Un'alimentazione sbagliata non solo fa male alla salute, ma costa anche ad ogni cittadino 289 euro l'anno, con quasi due pugliesi su tre che risultano in sovrappeso. Il 9,8% è obeso, ma c'è anche il 29,7% che risulta in eccesso ponderale, un fattore di rischio che favorisce molte malattie. Ad affermarlo è col diretti Puglia sulla base di un calcolo di Ateleia, secondo cui l'obesità rappresenta, oltre ad un fattore di rischio per la salute, una tassa di 289 euro l'anno pro capite. Un ruolo importante per la salute, che è precisa la col diretti regionale, è stato riconosciuto ad oltre un decennio dall'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il paradosso è che proprio nella patria della buona tavola si è in aumento l'obesità infantile e degli adolescenti, perché i giovani stanno perdendo l'abitudine a consumare cibi più salutari, dove in Puglia l'11,1% dei bambini mangia frutta meno di una volta a settimana o mai, o solo il 38,8% dei bambini consuma una merenda adeguata di metà mattina, con un impatto potenzialmente devastante, denuncia col diretti, sulla salute delle giovani generazioni. La dieta mediterranea è un tesoro del Made in Italy che ha consentito all'Italia livelli di longevità fra i più alti al mondo, ma è sotto attacco, denuncia col diretti, su più fronti, a partire dal clima fino ad arrivare all'economico e politico europeo. Da qui la necessità di una comunicazione al consumatore che può essere garantita solo da un'etichetta sempre più trasparente e leggibile e soprattutto adottata non solo in Italia, ma anche dall'Unione Europea. Il 18 luglio a potenza l'inaugurazione dell'area antistante la Torre Guevara. Verrà finalmente restituito alla città uno degli spazi più importanti per la ricostruzione della sua storia. Gli stessi spazi saranno tra l'altro fruibili in maniera innovativa con l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Con queste parole ha annunciato la fine dei lavori di riqualificazione dell'area che circonda la Torre Guevara nel capologo di Regione Lucano il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano. La Torre Guevara è un antico monumento costruito tra il IX e il X secolo d.C., facente parte del castello cittadino non più esistente e che si trova nella parte est del centro storico della città. La torre aveva una precisa ed autonoma funzione di vedetta e fu probabilmente costruita precedentemente al castello che sarebbe sorto soltanto anni dopo. Dopo il terremoto del 1980, il bellissimo land space venne nascosto alla vista dei potentini e dei visitatori dall'edificio che ospitò una scuola, la ragioneria. Dopo il trasferimento degli studenti in un diverso istituto si è proceduto nel maggio del 2022 all'avvio dei lavori di riqualificazione dell'intera area cominciando proprio dall'abbattimento della scuola che nascondeva la torre e l'area verde circostante. A giovedì prossimo, 18 luglio, i 3.000 metri quadrati che fungono da cornice al monumento torneranno a disposizione di Potenza e dei suoi abitanti. L'intervento è stato finanziato con i fondi del programma IT per 1,2 milioni di euro a cui sono stati aggiunti circa 200.000 euro di risorse proprie della provincia titolare dell'area. Signora, lei con l'edicola dagli anni 80 sta qui a due passi dalla torre. È imminente la riapertura? Che sensazioni si provano? È una cosa senz'altro buona per dire che forse la gente si allunga ancora un po' di più da queste parti sì, è una cosa bella non ho che cosa dirle dobbiamo vedere poi che cosa succede effettivamente se viene tutelata se viene controllata A Noepoli una rappresentazione teatrale nei mesi estivi Un viaggio teatrale tra emozioni e sorrisi attraverso alcuni episodi della storia medievale di Noepoli in una chiave allegra e ironica A proporlo è l'ensemble teatro instabile che martedì 16 luglio in una conferenza stampa tenuta nella sede della provincia di Matera ha presentato l'evento Noia 10 Quinto il sogno di uno stato alle pendici del Pollino Le rappresentazioni teatrali sono impreziosite dai testi dalla musica e dalla regia di Giuseppe Ranoia e sono in programma gratuitamente nel borgo antico della realtà potentina nelle giornate del 27 luglio 20 agosto e 19 ottobre con orario di inizio alle ore 20, 21 e 22 L'evento intende valorizzare le risorse territoriali partendo dagli stessi cittadini per implementare un sistema di offerta turistica alternativo che possa essere di forte impatto sociale e di innovativo carattere per i visitatori, i curiosi, gli amanti del genere Tra i protagonisti anche i cittadini di Noepoli impegnati sia in qualità di attori e sia come accoglienza turistica, enogastronomica e artigianale Progetto conta anche sulla presenza di attori di comprovata professionalità Il teatro deve fare questo, prendere spunto dagli eventi storici e poi cercare anche delle riflessioni che possano avere anche un'attinenza con i tempi odierni Ci saranno dei rievocatori, i rievocatori cavalieri delle terre tarentine Il popolo partecipa perché è peculiarità dell'ensemble teatro instabile essere catalizzatore per la comunità Questo io mi sono sempre posto come obiettivo sociale Per noi rappresenta una grossa opportunità in quanto crediamo che questa rappresentazione che stiamo creando possa dare la possibilità di sviluppo delle nostre aree che sono abbastanza disagiate e quindi portare un indotto turistico che possa dare sviluppo e quindi praticamente cercare di dare visibilità al nostro piccolo borgo che è ricco di storia però povero dal punto di vista economico È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti